Allora, Utolet Vinum, quindi vino, però qui siamo in campo di profumi. Soprattutto come l'avete realizzato e come mi è venuto in mente di fare l'Ambrusco? L'Ambrusco perché siamo di Modena e quindi il progetto nasce appunto dal nostro territorio. E quindi l'Ambrusco legato al discorso della bottiglia dell'aceto balsamico e come primo vino con note di violetta, di fiori bianchi, tiglio, acacia e zenzero. E' zenzero per dare l'effervescenza, no? Perfetto. E invece uno che piace particolarmente a te? Moscato bianco. Moscato bianco. Per la dolcezza oppure perché... Per il ricordo. Per il ricordo del... Esatto, dell'infanzia. Ah, ok. Di quando ci facevano vendegnare. Il moscato. Esatto. Un chicco a me, un chicco a te. Esatto. Grazie. Grazie a te.